A trovarci Vittorio Feltri, dopo un bel po' di tempo, fondatore di Libero, nonché capolista di Fratelli d'Italia per le amministrative del Tio Ottobre a Milano, con una sfida molto ambiziosa, quelle che piacciono a lui, che Fratelli d'Italia prenda un voto in più della Lega. Giusto Vittorio, ho capito bene? Sì, è una battuta che difficilmente si tradurrà in realtà, ma ormai in questo paese non si può tirare una battuta perché subito scateni delle polemiche come se tu avessi voluto aggiungere un comandamento. Invece sono tutte sciocchezze. È evidente che la situazione di Milano è difficile. Io mi sono messo con la Meloni perché è la persona politica che mi piace di più in questo momento. Per il resto non c'è nulla di... non ho un'ambizione personale. Sì, faccio il capolista nella speranza di portare qualche voto, ma è tutta teoria. Bisognerà vedere poi cosa succederà. Tutta teoria. Nel frattempo invece...